Allora ragazzi siamo qui con i due capitani storici del Napoli, Pino Tagliavatera e Paolo Cammino. Ecco l'intervista. L'intervista perché ovviamente è il mio seguito sia su Facebook che su Twitter. Un saluto a tutti. Ragazzi vogliamo dire... Forza Napoli. Diamo un messaggio di pace, di gioia a tutti i ragazzi. Abbandoniamo la violenza e soprattutto dobbiamo restare lì. Un messaggio per ciascuno è un buon anno. Forza calcio, forza calcio. Forza Napoli. Diamo a calcio, diamo a calcio. Ciao, ciao. Ciao, aiuto. Grande.